Ne parlavamo prima dell'abuso d'ufficio, ha già parlato il dottor Davico, prima parlavamo di altre norme previste da questa riforma Nordio. Una su tutte abbiamo detto il fatto che non sarà più un solo giudice ma un collegio di tre a dover emettere le misure cautelari. Poi ci sono altri interventi che sono previsti, per esempio il fatto che in caso in cui ci sia la ritirazione del reato si può interrogare l'indagato prima dell'arresto. Lei frequenta da tutta la vita i tribunali e li conosce molto bene, secondo lei questi interventi sono come dicono realmente efficaci per velocizzare la macchina della giustizia o vanno a ingolfare una situazione già pregaria che è quella di tribunali italiani? Io data la mia età posso dire che sento discutere di problemi della giustizia negli stessi termini in cui se ne discuteva quando io ho iniziato la professione. Il bello di questi dibattiti è che non portano assolutamente a nulla. Adesso sembra che qualche cosa di più concreto si voglia fare ma come avete visto, come lo ha già detto giustamente Davigo, la grande riforma inizia con una cosa che non serve assolutamente a nulla e cioè l'abolizione di questo benedetto abuso d'ufficio. Un abuso d'ufficio che rientrerà comunque nella prassi come forma di corruzione e quindi non c'è da preoccuparsi troppo di questa abolizione. Però sembra che abbiamo ottenuto chissà che cosa perché partiamo niente po' di meno che con l'abolizione di questa norma. Le altre di cui si è parlato adesso e cioè questo voler affidare addirittura ad un collegio la valutazione dell'opportunità o meno di emissione di un provvedimento cautelare è un'altra cosa fatta all'italiana perché a questo collegio si ricorrerà sempre che non sia necessario procedere con effetto sorpresa e quindi voglio vedere quanti saranno i pubblici ministeri che non diranno che loro è un caso nel quale si deve ricorrere a sorpresa. Per di più non si ricorre al collegio per i reati più gravi e quindi non si capisce perché la logica casomai vorrebbe il contrario. Per di più non si tiene conto delle situazioni che si verranno a creare nei piccoli tribunali dove non so dove verranno trovati tutti questi magistrati che dovranno decidere sui problemi cautelari e che si troveranno poi in situazioni di incompatibilità quando si dovrà procedere al giudizio. Tutte considerazioni che pare non siano state fatte di fronte a questa idea di migliorare le garanzie perché d'ora in poi saranno tre persone a decidere anziché una soltanto, dimenticando che poi ci sono altre tre persone che devono decidere in sede di riesame. Quindi mi pare che sia una riforma che non farà altro se non allungare i tempi, complicare le cose e soprattutto complicare la vita nei piccoli tribunali dove non ci sarà un numero adeguato di magistrati che si possano poi alternare senza creare situazioni di incompatibilità. Però l'importante intanto è di buttare sul tappeto una proposta di riforma. poi si vedera.